La Premier britannica Teresa May è stata ricevuta dalla regina Elisabetta II a Buckingham Palace per l'atto formale di scioglimento del Parlamento in vista delle elezioni già annunciate per l'8 giugno. In base alla Costituzione, il Parlamento deve essere sciolto 25 giorni prima della data delle consultazioni e l'incontro della Premier con la Sovrana dà formalmente avvio alla campagna elettorale. La conservatrice Teresa May è alla guida del governo dopo la rinuncia di David Cameron in seguito al referendum sulla Brexit. A Bruxelles non tutti vogliono negoziati di successo, non tutti vogliono una Gran Bretagna prospera. Ora, più che mai, abbiamo bisogno di un Premier e di un governo forti e stabili. Fare della Brexit un successo è fondamentale per i nostri interessi nazionali ed è cruciale per la nostra sicurezza e la nostra prosperità. Contestualmente all'avvio dello scioglimento del Parlamento, la Premier uscente ha cominciato la campagna elettorale chiedendo voti per sé e per un governo forte e attaccando il leader laburista Jeremy Corbyn.